Quanto costa fare motocross? Oggi vedremo quanto costa iniziare e mantenere questo sport. Guardatelo fino alla fine perché poi darò dei consigli veramente importanti per risparmiare un bel po' di soldi. Prima di iniziare però mettete mi piace alla pagina Facebook e iscrivetevi al canale YouTube perché è gratis e mi aiuta a crescere. Purtroppo il nostro sport non è gratis, non è caro come MotoGP o Formula 1, ma non è neanche economico come il calcio. E all'inizio purtroppo si pensa che l'unica spesa da fare sia quella di comprare la moto. E invece, come potrete constatare durante il video, non è proprio così. Anzi, forse la moto è quasi la spesa inferiore. Cominciamo col primo anno. Dovrete comprare come prima cosa la moto, che se comprirete usata almeno 3.500 euro a meno di fortuna di affari, invece se la vorrete nuova stiamo sui 7-8.000 euro. So che i listini sono più alti, ma online si riescono a trovare comunque modelli nuovi a prezzi inferiori. Poi alla moto servono delle gomme. Se gareggiate vi servirà un treno di gomme per massimo 2 gare. E un treno di gomme da gara costano circa 140 euro. Se è il vostro campionato a 6 gare, sono già 140 per 3 e siamo già a 420 euro. Poi almeno altri 3 treni di gomme da allenamento vi servono, quelli per fortuna costano meno, e siamo a 110 euro l'uno. Per 3, 330, che più 420, già siamo a 750 euro solo di gomme. Le gare. Beh, il costo dell'iscrizione nella gara è circa 60 euro, quindi per 6, 360. Se andiamo ad aggiungere una licenza che costa circa 150-200 euro l'anno, più i 150 euro di iscrizione al campionato, siamo già a circa 660 euro. Dipende appunto dal costo della licenza e dalla quantità di gare durante l'anno. Per performare bene in gara dovrete comunque allenarvi. Se contiamo un allenamento a settimana, togliendo magari le domeniche di vacanza, che possono essere nel periodo natalizio e a ferragosto magari, togliendo anche i fine settimana della gara, andiamo a circa 44 allenamenti all'anno. 44 allenamenti all'anno hanno un costo per allenamento di circa 50 euro. Quindi se andiamo a considerare, cioè arriviamo a questa cifra, se andiamo a considerare i 10 euro di benzina alla moto, circa 5 euro d'olio, i soldi per il furgone, la benzina o la macchina con il carrello, e il costo della pista che si aggira tra i 15 e i 25 euro, arriviamo appunto a circa, pensandola bene comunque, a circa 50 euro. Quindi 50 per 44 andiamo a 2200 euro all'anno. Se invece facciamo due allenamenti a settimana, già arriviamo fino a 4400 euro. Ecco, furgone o carrello? Io vi consiglio il primo. Anche qui dovrete comprare il furgone, che se lo comprate nuovo la cifra è molto alta. Se lo comprate usato, che è il mio consiglio, perché comunque si può trovare un buon usato, spendiamo magari circa 3 o 4000 euro di furgone, più circa 550 di passaggio, circa 570 tra assicurazione, bollo e revisione, più magari 250 di gomme, e siamo già a 4370 euro solamente per il mezzo. Poi dopo l'allenamento ovviamente dovrete pulire la moto, e sono altri 100 euro di tropulitrice. La moto purtroppo non funziona sempre perfettamente, quindi potrebbe anche capitare che si rompe qualcosa, o comunque di base dovremmo fare una revisione alle sospensioni e un cambio pistone, e lì per entrambe le cose arriviamo sui 350-400 euro, anche lì all'anno se tutto va bene. C'è anche il pensiero di dove metto la moto e il furgone, perché comunque non tutti hanno la possibilità di avere una casa col giardino, e in questo caso dovrete magari affittare un garage. E lì il prezzo di affitto di un garage stiamo circa sui 100 euro, lo potrete trovare anche a 50 euro, però se state già in una città vicino Milano magari stiamo sui 100 euro al mese, che per 12 fanno 1200 euro all'anno. Un'altra cosa importantissima e obbligatoria è l'abbigliamento, e anche qui andiamo su cifre abbastanza alte, anche se rimaniamo su abbigliamento base, quindi non marchi troppo blasonati. Quindi circa 200 euro di stivali, 200 di casco, 70 anche 200 di pettorina, 20 euro di calze, altri 30-50 di ginocchiere, la tuta sono circa 150 euro, anche lì la mascherina del casco altri 30 euro, i guanti altri 25 euro, anche lì arriviamo a circa 750 euro di spesa. In totale fanno più o meno 12.600 euro l'anno per un allenamento settimanale, o 14.800 per due, più se ci serve un garage altri 1.200 euro. La cifra per il motosport non è molto alta, però se la confrontiamo ad una persona che fa atletica leggera, è tantissimo in confronto. Ma passiamo al secondo anno. Qui già la licenza purtroppo potrebbe costarci di più, quindi andiamo a considerare circa 200 euro di licenza, più i soliti 750 di gomme, più 150 di iscrizione al campionato, 360 di gare, e stiamo già a 1.460 euro. I soliti purtroppo 2.200 o 4.400 euro di allenamenti, circa 530 euro per il furgone, 400 euro circa di spese per la moto, che potrebbero aumentare di molto in caso di eventuali problemi, o aggiornamenti comunque, perché se vendete la moto e ne comprate un'altra, comunque magari mettete anche 1000 euro in più. Altri circa 270 di abbigliamento, perché comunque dopo una stagione intensa, i stivali saranno da cambiare, un altro paio di calze magari dovrete comprarlo e altri 50 euro li mettiamo in conto per una qualsiasi cosa, magari un'altra mascherina. E siamo già anche al secondo anno a circa 4.900 o 7.100 euro per due allenamenti settimanali. Ovviamente c'è da aggiungere i 1.200 euro per il garage. Ecco, la spesa per il secondo anno è già notevolmente inferiore. Per una persona che lavora, che ha un lavoro normale, è comunque tranquillamente gestibile, ma per un ragazzo è già molto complicato approcciarsi a questo sport. Alla fine non è impossibile economicamente, ma per arrivare ad alti livelli purtroppo devi cominciare già da piccolo e quindi devi avere magari un padre che crede molto in te o una madre che comunque ha un portafogli molto pieno. Prima di chiudere comunque voglio darvi delle chicche per risparmiare un po' di soldi. Una ad esempio può essere quella di comprare moto e furgone un po' più vecchi perché comunque magari potreste trovare un buon usato, appunto magari una moto del 2008 messa molto meglio di una moto del 2016 e comunque riuscire a competere molto bene in un regionale perché comunque a questo livello conta praticamente al 100% il pilota. Un'altra cosa da poter fare per risparmiare è quella di sfruttare le gomme d'allenamento anche in gara. Non performeranno allo stesso modo, ma appunto comunque tengono perfettamente e costano meno, quindi un allenamento in più perché poi la gara alla fine è quello, forse girate anche meno rispetto all'allenamento normale, quindi basterà tranquillamente la gomma d'allenamento. Un'altra cosa può essere quella di andare nella pista vicina a casa vostra per la maggior parte delle volte, quindi magari tre volte su quattro andate nella pista vicina a casa vostra, oppure potreste anche affittare un terreno o magari anche chiedere di utilizzarlo gratis per l'allenamento così da risparmiare soldi di benzina e soldi anche di pista. Un'altra idea potrebbe anche essere quella di comprare l'abbigliamento base, ovvero non prendere magari l'ultimo casco in fibra di carbonio che pesa pochissimo o lo stivale con il giunto per poter muovere bene il piede, no, prendere magari lo stivale che costa 140 euro, quindi prendere la roba base e riuscirete comunque a risparmiare parecchi soldi perché come abbiamo visto 750 euro di abbigliamento magari riusciamo a portarli a 400-350 euro è un risparmio grandissimo. Ecco, questi erano i miei consigli per risparmiare un po', quindi per consentire a più persone di riuscire a fare questo sport e se il video vi è piaciuto condividetelo e appunto vi ricordo di mettere mi piace alla mia pagina Facebook e anche iscrivervi al mio canale YouTube e alla prossima!